salve ragazzi di shotgaming qui è baglio che vi annuncia la live di questa sera sempre alle 9 ma sul secondo canale con per le cose che vi ho già spiegato in ben due video sul secondo canale c'è la live di questa sera su pleiano background e successivamente anche su albion online per cui ragazzi vi invito a venire a vedermi alle 9 in punto mi raccomando vi aspetto venite numerosi sia vecchi che nuovi ragazzi io non smetterò mai di fare live troverete il link in descrizione e sulla scheda qui sopra e anche su twitch ovviamente da un bel po di tempo un bacio ragazzi a tra poco io